Posso aspettare dentro nel mentre? Posso sedermi? Ah, posso? Mi posso sedere qua? Non è un problema? Lo spegni? Eh, non la riprendo lei, più che altro sono in diretta, io faccio questo come lavoro, sono una roba, una roba un po', un po', eh, ma non posso proprio, cioè, era il, il tema... No, ragazzi, abbasso la cassa, no, adesso l'abbasso, scusate, praticamente vi spiego adesso come funziona, se no vi sembra un po' strano, praticamente sono in diretta, io faccio dirette ogni giorno per otto ore al giorno, dalle 16 alle 24 e praticamente trattiamo, cioè trattiamo, è semplicemente un, una ripresa amatoriale della propria vita in maniera molto quotidiana e molto, molto tranquilla, cioè non è niente di, di troppo particolare. Signor parrucchiera, mi raccomando, lo faccia completamente pellato. No, 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 scusi ancora, eh, grazie mille per la sua comprensione, la sua gentilezza. Signora parrucchiera, perdoni, queste persone stupide non hanno di meglio da fare, comunque mi raccomando, lo vogliamo vedere pellato, questo ragazzo? No, non è, no, non pellato, no, 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 non è becca, no, non pellato no, adesso le dico come, come fare il taglio, una roba molto sobria, tranquilla, eh, ma questi continuano, mi perdoni. Grazie, parrucchieri, buonasera. Eh, ma, eh, adesso, adesso, allora, se non le risponde più per dieci minuti, questi smettono di chiamare. No, signor parrucchiera, io ho appuntamenti che mi chiamano, devo rispondere al telefono. Forse non hai capito. Eh, immagino, più che altro. Eh, se no, vado con l'appoggio, gli mandiamo un acquarello e stiamo a posto. Eh, ma, eh, non è colpa mia, caro, cioè, sono ragazzini stupidi. Quello è lui, vado e gli mando un acquarello, quello è un acquarello. Eh, gli mandi un acquarello ai ragazzini, più che altro non è colpa mia, magari per sbaglio se hai visto il nome del parrucchiere nel negozio, cioè nella live. Eh, non è colpa mia, sono ragazzini che fanno... Ma che ci posso fare io se stacca... Mi può asciugare i capelli almeno? No, questo è segreto, caro. Scusatemi del disturbo. Scusatemi se ci sono stupidi che chiamano, non è colpa mia, cioè, non... Dimmi tutto, come li tagliate? Allora, i lati li farei un po' più corti, mentre sopra li taglierei... Un po' più corti quanto? Cioè, anche... Non come i miei. No, non come i tuoi, però un po' rasati, non troppo, cioè... Con un po' corti e sopra li taglierei un po', un bel po', a metà tipo. Cioè, comunque cercando di mantenere il ciuffo, ma... Un po'... Ok. Un bel taglio fresco per un ragazzo fresco come me. Eh, erano belli lunghi sti capelli. Da un 3-4 mesi che non li tagliavo. Così io non trovo più. Sì, va bene, perfetto. Va bene, sì, sì, adesso magari vi diamo un attimo... Deve essere ok. Mi scusi, è che le persone possono mandare dei suoni strani, io adesso cerco di abbassare quelli che sono un pochettino più... Molesti. 7-3, 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 7 che sta uscendo chi? no non so chi sia grazie seme liscio per il prime no zinni parte rispetto eh lo so ma mi scusi prima adesso facciamo il volo così andiamo subito via vado subito via non le rompono più le balle no ma dopo non continuano più a chiamare non si preoccupi cioè appena me ne vado ma secondo te tu adesso stai lavorando stai lavorando in questo caso no? ma io lo faccio più come un hobby scusa stai facendo un hobby dove a cui non può lanciarsi l'altra persona perché già la quinta è chiamata di arrivo eh ma non è causa mia mi perdoni non è causa mia io lo faccio giusto per pagarmi gli studi perché metto da parte un po' di soldi così poi posso pagarmi l'università ok però stai ricevendo di soldi sul fai ma il problema è che io sono venuto io sono venuto qua con buonissime intenzioni però non mi aspettavo non mi aspettavo che le persone allora io sono una persona io sono uno che di solito rompe un sacco il cazzo alle persone nelle sue live però oggi oggi c'avevo veramente buone intenzioni non volevo rompere il cazzo a nessuno non volevo rompere il cazzo a nessuno e purtroppo è sfociato in qualcosa che non doveva sfociare purtroppo ci sono ragazzini stupidi che non capiscono che comunque chiamare e fare questi scherzi non è una cosa divertente ma da solo disturbo per persone che arrivi ne chiamate per prendere appuntamento eh capisce se vai in studio medico dal dentista inizia a fare la diretta e chiama dal dentista ok eh lo so mi perdoni ancora grazie Ian Brando risporta rispetto Brando per favore no non sto insultando la chat anzi la chat era continuamente prima diceva di non chiamare quindi sono solamente 5 o 6 soggetti stupidi che che fanno gli stupidi ragazzi cioè voi chat siete lo so che portate rispetto siete una grandissima chat che capisce qual è il momento e il luogo c'è un tempo e il luogo dico per ogni cosa ma non ora diceva il professor e voi lo sapete chat solo che purtroppo ci sono alcuni bambini che non gli risponde davvero se non gli risponde eh le chiedo scusa adesso non lo facciamo più più le risponde più loro continuano a fare gli stupidi andresti non hai capito che io devo rispondere a te eh non lo so per i clienti che prendono appuntamento eh non lo so immagino ma c'è una cittura in lavoro è così eh ma non eh non sono io mi dici non rispondere non puoi termine non rispondere ok va bene lei è di Napoli vero? sì molto bella io sono stato recentemente a Napoli bravo mi sono comportato a Napoli sai che non è uscito ma io mi sono comportato molto bene i napoletani tutti tutti molto gentili calorosi no no ma io la capisco infatti ce la capisco completamente l'altro e là fuori sono diversi da come sono dentro grande gago bello parrucchiere Andrea grande parrucchiere Andrea ci dispiace per le chiamate parrucchiere Andrea risponde sempre ad ogni chiamata Andrea c'è ma si chiama Andrea lei? no grazie 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 parrucchiere vuole essere un po' di chiamare privato poi vieni che stupido poi immaturi più che altro immaturi di infantili vera tanto che fa il parrucchiere 16 anni caspita gli avrei dato massimo 30 anni quindi quanti anni ha se posso chiedere 30 ah 30 ok allora ci ho preso quali napoli passano qua sulla diretta e io ho un grande pubblico di gente di Napoli perché Giorgio San Giorgio ah Giorgio San Giorgio Napoli 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 però che freschezza questo taglio esatto così direi che possono andare come lunghezza proprio perfetti sono perfetti così grazie per l'euro gamberetto cazzo ragazzi sono cortissimi sono troppo corti ma che merda beh cioè sono beh fatti bene sono fatti veramente bene ma sono troppo corti grazie tele per i cento sto parrucchiere non sa fare una minchia sei diventato un'evecottina grande game finalmente sei riuscito a trovare un parrucchiere serio a Milano stai attento che mi sa che questo ti chiede piaci euro quando ti prendo ti tiro una sveglia ok bacio grazie per il prime no basta basta così basta così questo parrucchiere lo conosco lo vede sempre il mio nome ha detto che ha detto che questo nonna viene spesso qua grazie gabry chi viene? la nonna di un ragazzo che ci sta guardando ah si? si come si chiama? eh non ce l'ha detto il nome grazie Ivan gabry non so proprio come dirtelo ma con questo taglio oh grazie eh lo so sono molto più fresco Riccardo grazie ah che bella sensazione che bella sensazione perfetti 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 dai guys sto bello fresco adesso quanto sono fresco guys un sacco quant'è? 20 euro quant'è c'è? 25 si si no tenga per il disturbo caro grazie mancherebbe grazie ancora lei arrivederci grazie mille buona giornata buon lavoro grazie devo dirti che sembri ancora più bello ora con questa taglia ma soprattutto ancora più fresco finalmente il taglio è andato via con la stagione di chat e già la più avrei fatto sto bene chat facciamo un piccolo pull sembri il mio sottopalla dopo la prima rasata grazie mi vuole comprare anche un cappellino se riesco che adesso arriva l'estate ci sta a comprare un bel cappellino stiloso per il sole madre di dio can i say can i say hi to fede you hi fede you hi fede you you are the best prebooter in the town best 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 prebooter in the town the best so